Ciao carissimi, è una situazione molto interessante, adesso si nota, si vede nella zona di Kherson in Ucraina, la zona dove la gran parte della regione è controllata dalla Russia, però c'è l'esercito ucraino che viene spinto lentamente fuori dalla regione, ci sono i vari tentativi di creare il contatto, la battaglia, però in realtà grandi spostamenti non ci sono in quella zona, grandi movimenti operativi, adesso in Ucraina le operazioni più importanti avvengono nel centro dell'est, nel Donbass, per farvi capire meglio dove c'è Slavyansk, Donetsk e così via, lì ci sono i vari strategie militari, cambiamenti, spostano i riparti, rinforzano il fronte e vedrete che tra poco i russi faranno lì una grande operazione di offensiva, stanno già preparando le piazze per riunire un'unica linea, ovviamente i militari ucraini, l'esercito ucraino lo capisce, quindi si preparano per una ritirata tattica, però anche devono prepararlo in maniera intelligente perché non possono comunicarlo così ai riparti operativi, altrimenti si trasforma tutto in una grande fuga incontrollata come l'abbiamo vista ad esempio a Slavyansk e così via, dove hanno abbandonato i mezzi, dove hanno buttato tutto il materiale, i russi hanno trovato nelle foreste a cielo aperto decine di tonnellate di materiale bellico, anche pericoloso, che alcuni abitanti locali hanno già cominciato a portare a casa qualcosa e tutte queste situazioni ovviamente sono stati immediatamente fermate, interrotte, anche perché si tratta di materiale bellico abbastanza pericoloso, di colpi per i cannoni, per diobici a lunga gettata, i missili anticaro, scusatemi, razzi anticaro, razzi reattivi anticaro, sia monouso che multiuso, e poi ci sono stati trovati proprio le armi leggere, i fucili d'assalto, munizioni e così via, senza parlare dei mezzi, i mezzi che sono stati trovati lungo la ritirata dell'esercito ucraino sono numerosi, i russi li hanno esposti, ci sono dei video, se voi seguite il mio canale Telegram, io sul canale Telegram ho pubblicato diversi video con i mezzi militari ucraini catturati dai russi e esposti nei centri di varie zone abitate, così anche i giornalisti di varie testate riescono ad andare lì a verificare la viridicità di ciò che è avvenuto, a controllare provenienze di questi mezzi e così via, mezzi, armamenti, perché ci sono cannoni, ci sono carri armati, ci sono tantissimi blindati di diverse tipologie, persino blindati americani, le macchine leggere, i blindati leggeri come ad esempio Hammer e così via, sono tutti lì, e per evitare un'altra ritirata disorganizzata che non è tanto ritirata ma è proprio fuga purtroppo per l'esercito ucraino è stato veramente drammatico questo momento, per evitare la simile cosa, adesso i comandanti, il comando ucraino cerca di organizzare una ritirata tattica passo dopo passo, penso che loro vorranno prima far salvare il massimo possibile i mezzi militari, quindi ritirare i mezzi militari, però dovete anche capire che loro sono in difficoltà per portare via dei mezzi come carri, cannoni, obici e così via, serve tanto carburante, serve comunque organizzazione e già in tempo di pace è abbastanza complicato di farlo, figuriamoci nei tempi di guerra, perché comunque i russi utilizzano in maniera massiccia l'artilleria e soprattutto i missili, loro utilizzano i droni, con droni riescono a controllare tutti i spostamenti, tra l'altro i russi utilizzano i droni con transponder modificati, quindi se russi riescono a monitorare il volo dei droni ucraini, ovvero quando dalla parte di Ucraina arrivano i droni, transponder che hanno questi droni fa sì che i russi li vedano, mentre i russi sono riusciti a modificare il loro transponder, così neanche con l'apparecchiatura fornita dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, l'apparecchiatura che di solito utilizzano anche le forze dell'intelligence, neanche grazie a questa apparecchiatura riescono a monitorare il volo dei droni russi, per cui i russi sono presenti nel cielo sia con gli aerei che con droni, riescono con droni a monitorare la situazione e i russi utilizzano questa tipologia dei droni che nel volo fanno corritori di fuoco di artilleria, quindi come funziona? Che se alza un drone, va verso il territorio dove magari l'esercito ucraino sta facendo un lavoro militare, un spostamento da un punto A a un punto B di una colonna, per farvi capire, il drone intercetta questa colonna con dispositivo con il quale è fornito da una precisa posizione in tempo reale alle forze missilistiche, tra l'altro questa posizione cambia nel tempo reale perché se colonna in movimento alle forze missilistiche arriva già la traccia e loro sanno già dove stanno andando, con la velocità e così via, quindi loro riescono a mandare il missile già con correzione su quello che sarà il punto d'impatto per cui il missile arriva non nella zona dove drone ha beccato la colonna, ma più avanti dove la colonna deve essere, dove si troverà nel momento in cui il missile dovrà fare l'impatto e questo ovviamente è una tattica abbastanza distruttiva, l'esercito ucraino perde parecchi uomini e anche i mezzi, loro fanno fatica a ritirarsi così in modo, come dire, organizzato per questo devono utilizzare varie strategie, noi abbiamo visto anche nei video precedenti durante la fuga dalle città che sono stati occupati dai russi, diversi militari ucraini hanno dovuto utilizzare le macchine dei civili, ovvero prendevano le macchine dei civili e andavano via con quelle macchine lì proprio per non essere visti dall'alto dai droni all'interno dei blindati perché i cari venivano colpiti poi dall'artilleria poi un'altra cosa importante che non gioca a favori degli ucraini è che da poco i russi hanno cominciato a utilizzare i missili FAB io dicevo che prima o poi questa triste cosa sarebbe dovuta avvenire noi speravamo che poteva non essere presa questa decisione da parte del governo russo da parte del quartier generale delle forze armate russe però alla fine vista l'intensificazione della guerra soprattutto visto il fatto che forniscono le armi i paesi occidentali i russi hanno cominciato a utilizzare a larga scala i missili termobarici quindi ieri e oggi sono stati utilizzati questi missili lanciati dagli aerei e ci sono stati parecchie devastazioni nelle posizioni dell'esercito ucraino nella zona dove adesso i russi stanno avanzando vicino alla città Slaviansk e nella zona di Slaviansk e lì parliamo di un altro tipo di guerra di un altro tipo di missili di una distruzione veramente totale e speriamo che questi missili non cadranno mai nelle città perché sarebbe per i civili sarebbe veramente una condanna perché non sono come dei missili che si usano adesso come anche stesso missile balistico Calibre oppure come dei missili reattivi Grad, Uragan e così via questi sono missili a testate termobariche sono molto distruttive seminano morte a grande distanza e se utilizzati proprio nelle città nell'ambiente urbano riescono a creare delle distruzioni e tante persone muoiono proprio per l'amplificazione che la struttura della città può dare alle onde che creano questi missili, le onde di fuoco quindi io spero che i russi avranno intelligenza di non utilizzarli nelle città però sulle posizioni dell'esercito ucraino sono stati già utilizzati ieri e oggi per questo motivo adesso sul fronte stanno cercando di organizzare una ritirata tattica gli ucraini e vediamo come riescono a fare ma già si parla del fatto che ad esempio città come Solidar dovranno essere prese accerchiate pare che a Solidar si sta chiudendo l'anello finiranno l'accerchiamento parecchi militari ucraini se saranno intelligenti si arrenderanno così si eviterà la battaglia urbana che tra l'altro provocherebbe tantissime morti anche tra i civili perché comunque militari ucraini stando in città mettono comunque a rischio anche la vita dei civili i militari russi mettono a rischio anche i civili quando entreranno nella città e cercheranno di far fuori i militari ucraini quindi la guerra all'interno del centro urbano distrugge soprattutto i civili meno preparati meno difesi mentre sulla situazione di Kherson tornando c'è una cosa molto divertente per chi osserva la questione ucraina dal punto di vista di servizi segreti intelligence c'è una vera e propria guerra dei servizi segreti britannici tedeschi e russi cosa succede? che adesso i britannici cercano di monitorare il più possibile le comunicazioni russe cercano di insomma capire come al meglio possono preparare un piano d'azione per l'esercito ucraino ah tra l'altro qua bisogna dire tra virgolette l'esercito ucraino non prepara le proprie i propri ordini operativi gli ordini operativi per l'esercito ucraino sono preparati dall'intelligence britannica perché l'esercito ucraino non dispone dei mezzi di perlustrazione e di rilevamento sul territorio questo fanno solo a livello serio fanno solo la gran britannia e stati unici d'america loro hanno gli aerei della nato gli aerei con radiolocazione con tutti tutti gli apparati loro hanno altri sistemi sistemi soprattutto legati allo spazio quindi sono i sistemi che riescono a monitorare controllare la situazione nella parte dell'Ucraina occupata dei russi loro forniscono questa informazione all'esercito ucraino e oltre a fornire questa informazione loro forniscono questa informazione con già pronti piani ed azione per l'esercito ucraino quindi l'esercito ucraino in grande linee viene mosso a livello proprio di di statistica militare di informazione militare e di preparazione degli ordini operativi viene mosso da Gran Britannia e Stati Uniti d'America poi in mezzo c'è anche la Germania adesso di recente sono entrati anche i tedeschi anche i servizi tedeschi in questa situazione e perché i tedeschi hanno dato un piccolo aiuto agli ucraini per monitorare e anche per creare dei dei sistemi di abbattimento dei missili perché dalla Russia dalla parte russa vengono lanciati ovviamente i missili anche dal Mar Nero questi missili danneggiano il sistema pesantemente danneggiano il sistema militare ucraino per un po' ridurre questi danni i tedeschi danno aiuto agli ucraini e quindi c'è adesso questa guerra dei servizi ovviamente i russi i servizi intelligence russi cercano di mandare varie varie disinformazioni britannici cercano di capire cosa è vero cosa è non vero poi in mezzo ci sono tedeschi c'è uno scambio di informazione pazzesco in quella zona lì tutto perché perché i britannici sognerebbero riuscire sfondare su quella parte di fronte per dare possibilità all'esercito ucraino di arrivare abbastanza vicino alla crimea per poter colpire la crimea pesantemente con i missili con i sistemi missilistici forniti dagli Stati Uniti d'America quindi questo è un intento adesso della Gran Britannia riuscire a capire dove sono i punti deboli dei russi impegnare l'artilleria e forze missilistiche in quei punti far sì che i russi si ritirano almeno un poco arrivare in questa tasca che si creerà con sistemi missilistici e lanciare dei missili che secondo me sono già le traiettorie tutti i schemi tutti i calcoli sono già pronti arriveranno questi missili lanceranno questi sistemi missilistici per donatemi lanceranno quei missili e loro raggiungeranno un certo effetto perché colperanno la Crimea colperanno magari anche il ponte che collega la Crimea con la Russia e così via faranno dei danni quindi adesso lì c'è una attività altissima dei servizi segreti ed è molto divertente osservare su su questi contrasti su come funzionano vari vari servizi le comunicazioni in questo senso comunque pare che adesso nessuno ha insomma nessuno è più forte dell'altro russi riescono a creare bene la disinformazione i britannici riescono abbastanza bene a distinguere disinformazione dalla verità e i tedeschi in tutto questo cercano di salvare salvabile ma comunque per ora russi sono in vantaggio si teme che prendendo il Donbass cominceranno avanzare su tutto fronte e lì sarebbero i guai cari amici vi invito a iscrivervi ai miei canali Facebook Instagram Youtube su Youtube mettete pollice alto campanellino così vi arrivano le notifiche quando io carico nuove video iscrivetevi anche sul mio canale Telegram dove io carico i video e le informazioni che non posso condividere su altri canali per causa di censura vi mando un forte abbraccio ciao